Ciao a tutti, sono Tanat Pagliani e sono il regista del cortometraggio 6A. Per il mio film mi sono ispirato a un fatto di necronaca. Un ragazzo che era stato picchiato a scuola, aveva poi difficoltà a ritornare a scuola dopo aver subito questo atto di bullismo. Ma il mio corto non parla solo di bullismo, ma anche del rapporto padre-figlio e sul rialzarsi in piedi dopo una caduta. E per farlo ho usato l'immagine di un ampiccato in falesia. Ringrazio ancora il Tulipani di Settanera e il Rai Cinema Channel per avermi dato la possibilità di far vedere il mio corto a più gente possibile. E quindi se volete vedere il mio corto andate su www.tulipaniisettanera.rai.it e buona visione!